Amanti del lusso estremo, unitevi, è arrivata la Bentley Bentayga. Quello che state ammirando è il SUV più potente e costoso al mondo, almeno fino a quando non sbarcherà in listino la nostra Lamborghini Urus, ma per ora lasciamo il record in Gran Bretagna. Un SUV che costa come un appartamento e che, incredibile ma vero, era attesissimo dal mercato, ormai stanco di rivolgersi alle solite vecchie Range Rover. Fille di arabi e russi bramano l'esclusività della Bentley Bentayga e, come dargli torto, per realizzarla serve un'eternità, almeno dal punto di vista industriale. 130 ore di meticolosa lavorazione artigianale, tanto per avere un termine di paragone basti pensare che un'utilitaria esce dalla fabbrica in una manciata di minuti. Dentro si sprecano tessuti in pelle, ma al prezzo finale contribuiscono anche i tanti legni pregiati scelti per plancia e finiture. Per il resto è un fuoristrada a tutti gli effetti, 4x4 e dall'imbarazzante massa di quasi due tonnellate e mezzo. Un autentico peso massimo, ma capace di muoversi come un felino e che, per farlo, sfrutta un immenso motore V12 da 6 litri di cilindrata e 600 CV di potenza. Così equipaggiata dichiara una velocità massima di 300 km orari e un'accelerazione da 0 a 100 chiusa in 4 secondi. Non vi basta? Allora sappiate che dal quartier generale Bentley hanno fatto trapelare che sarebbe in fase di sviluppo una versione ancora più potente, battezzata, non a caso, Bentayga Speed. Con lei i cavalli salirebbero a 6,50, la massima addirittura a 320 orari e lo 0-100 scenderebbe sotto la soglia dei 4 secondi. Peccato che il prezzo lieviterà insieme alle prestazioni, ma questa è tutta un'altra storia.